Con il nostro strumento di risparmio, hai tutto ciò che ti serve per creare e gestire il tuo budget mensile. Scopriamo insieme come funziona. Collega le tue banche facendo clic su Collega conto corrente e seleziona l'istituto dall'elenco. Se la tua banca non è presente o preferisci non sincronizzarla, puoi comunque aggiungere un conto manuale. Collegati i tuoi conti, potrai vedere su Finance Drip tutti i tuoi movimenti. A questo punto, sei pronto per categorizzare le tue spese ed analizzare dove spendi di più. Categorizzare una transazione e indicare se si tratta o meno di una spesa essenziale è semplicissimo. E ogni volta che lo fai, la piattaforma ti chiederà se vuoi ricordare la scelta per il futuro. Puoi impostare le categorie sia per le spese che per le entrate. Per i movimenti più complicati, il sistema intelligente ti chiederà di selezionare solo le parole chiave più rilevanti. In questo modo, in futuro riuscirà a impostare in automatico la categoria anche per le transazioni più difficili. Man mano che categorizzi le transazioni, il sistema inizia ad imparare e applica le regole anche per gli altri movimenti. Così, in pochi minuti potrai categorizzare centinaia di transazioni. Se vuoi modificare o creare regole più avanzate, puoi farlo dalla sezione Autocategorizzazione. Categorizzando le transazioni, potrai vedere delle statistiche sulle tue abitudini di spesa. Ad esempio, potrai avere sempre sotto controllo come varia nel tempo la tua capacità di risparmio, quali sono le categorie dove spendi di più, e quanto le spese ricorrenti ed essenziali impattano sui singoli mesi. Se vuoi che ti aiutiamo a spendere meno, puoi impostare dei limiti di spesa mensili per singola categoria. In questo modo, tu potrai tenere sempre sotto controllo dove stai spendendo troppo, e noi possiamo inviarti una notifica quando stai per raggiungere il limite. Se stai pensando di comprare un prodotto, ma non è strettamente necessario, puoi usare la nostra lista dei desideri che ti aiuta a capire quando è il momento di acquistare. Aggiungi alla lista il prodotto che desideri incollando il link di Amazon. A questo punto Finance Drip analizzerà il prezzo e ti fornirà indicazioni preziose. In questo caso, ad esempio, il prodotto inserito costa il 7% in più rispetto alla media degli ultimi mesi, per cui, se l'acquisto non è urgente o necessario, puoi impostare un limite di prezzo. In questo modo, ti invieremo una notifica non appena il prodotto scenderà sotto il prezzo da te desiderato. Il 70% degli utenti che iniziano a gestire le spese con la nostra piattaforma riescono a risparmiare più di 700 euro ogni anno.